buongiorno ragazzi ciao a tutti e a tutti come state spero bene allora nuovo video checchericcio di mattina alle 6 e 33 barra 30 34 sì allora questo è un video checchericcio appunto siccome che ho già fatto colazione tutto il resto avevo deciso già di fare un video checchericcio e così ecco qua ho dormito così e così però alla fine ho deciso di fare lo stesso sto video checchericcio a breve farò anche il video pulizie un breve video di pulizie non so ne a quanto ci mette la palestra di pulizie speriamo tutto bene già e niente aspetta un attimo che mi metto un po più dritte così non è possibile vabbè perché sennò mi cascate quindi no allora come state voi innanzitutto spero bene e nulla mi metto un po più inclinata verso il se non mi sentite anche perché di là c'è mia una che dorme in camera sua e non mi sembra il caso di svegliarla con le mie chiacchiere comunque con le mie chiacchiere sì e comunque stavo pensando stamattina di fare una skin care con voi ma dovrò fare più che la skin care qui mi invito a depilare tutta qua e poi ovviamente la skin care ma prima non lo so vediamo un po cosa mi esce prima forse farò lo skin care e poi mi depilo ma non pensare che prima mi depilo e si vedrà vabbè non lo so ancora cosa farò ragazze non ne ho idea comunque niente intanto già vi dico che non ho dormito una mazza non ho dormito niente e quindi sono un po è stato di coma sono ancora mille sogni quindi non so neanche io cosa andrò a fare oggi volevo fare video delle polizie ma non so se lo farò o meno così così quindi niente forse video delle polizie lo farò forse non lo farò vediamo tanto qua fa un freddo cane allucinante fa freddissimo non so voi ma io ho troppo freddo vabbè che qui in sardegna d'inverno non scherzo fa freddo veramente quindi vabbè niente ok io sono qui che sto cercando di fare altri video non so neanche quanto riesco a fare video perché ho tanti video elettrati da guardare di altre ragazze ragazzi quindi non lo so se riuscirò a fare altri video bellezze mie boh vediamo poi c'è un capocio stamattina perché vi ripeto non lo permetto nulla proprio nulla boh che strano già mi ha preso vi dicevo un caffè e un tè poi mi ha preso delle gocce per dormire ma non mi hanno fatto una mazza quindi non lo so mi ha preso solamente 5 gocce per dormire ma non ho risultato il problema perché non ho proprio il sogno non lo so perché non ne ho idea veramente forse dovrei 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 mettere più goccine o dovrei rilassarmi di più ti sto andando guardando qualche video smr ma anche lì non c'è niente da fare non ce la faccio proprio dormire poi c'ho questo freddo che c'è un freddo allucinante vabbè vabbè e niente grazie mie io adesso vi lascio a questo video e ci vediamo in un altro momento ok e niente io vi saluto vi dico ciò che grazie dell'ascolto perché volevo essere un video breve e vi dico già che questo video non lo so quando lo caricherò se lo caricherò stamattina si vedrà perché vedo a fare altro ma a quest'ora questa volta che faccio ciao 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 ciao